Vuoi vincere una skin o devobux gratis su Fortet? Bastare iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare scrivere, più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o vubux E accogliere anelli fluttuanti a Parco Pacifico Quindi seguite bene il percorso che adesso vi mostrerò Primo anello si troverà esattamente in questo punto esatto, vicino a questo container Quindi lo prendete, quindi vi pingo anche la zona in questo punto esatto Quindi andate qui e lo prendete Poi successivamente prendete questa zipline e andate fino alla fine Quindi alla fine di questa zipline si troverà invece il secondo anello da prendere Quindi davvero semplicissimo, seguite questo percorso e la completerete in pochissimi secondi Quindi continuiamo su questa zipline e proprio qui si trova il secondo anello Quindi ecco qui il secondo anello, lo prendete e si trova esattamente in questo punto Poi prendete di nuovo la zipline in quest'altra zipline e recatevi sempre alla fine Alla fine si troverà il terzo anello di questa sfida Quindi adesso ve lo pingo anche, lo possiamo anche vedere da qui Quindi ecco il terzo anello, basterà semplicemente passarci sopra e prenderlo Quindi dopo aver preso questo li trovo esattamente in questo punto esatto Poi prendete di nuovo quest'altra zipline e alla fine si troverà l'ultimo anello Quindi vi pingo anche la posizione esattamente qui Quindi qui si troverà l'ultimo anello da prendere Ecco qui prendete l'ultimo e sfida completata Quindi ricapitolando il primo anello si troverà qui Il secondo si troverà esattamente qui Il terzo si troverà esattamente qui E l'ultimo esattamente in questo punto Quindi sfida è semplicissima, spero di essere cristalli d'aiuto Se così vi ricordo di lasciare un bel like E iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche Così se siete sempre aggiornati su questi tipi di video Le live dello skin va a sbattaglia Infine conditi questo video tutti i miei amici e me anche loro stanno come completare questa sfida Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live